3, 2, 1, azione Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning e benvenuti nella mia postazione di editing insomma dove faccio i video eccetera eccetera ovvero nella mia cameretta e quindi come ho già detto nella mia pagina facebook se non siete iscritti iscrivetevi anche lì ho detto che ogni domenica avrei portato un video su accessori da poter montare accessori, gadget o qualsiasi cosa insomma qualsiasi articolo dedicato alle autovetture non per forza un alferomo umido quindi oggi mi sono dedicato su un limite di budget inferiore a 20 euro quindi cominciamo subito andiamo a google, amazon, ok accessori sotto i 20 euro qui leggete privata però poi metterò pubblica allora iniziamo con l'obbd2 avevo già portato un video al riguardo quindi vi posterò il link in alto a destra questo adesso lo troviamo a 15,55 euro è scontato di 2,10 euro e c'è una promozione in quanto se ne acquisti due hai il 5% di sconto però chi è che acquista due obbd e in più da quello che ho notato ti danno un sacchettino per mettere il coso wow emozionante questo è aggiornato al 2018 non so che vuol via dire però ok quindi ha il wifi ovviamente è compatibile con sistemi windows, apple, oios, android eccetera eccetera detto ciò andiamo avanti e ho deciso di portare una cosa molto interessante ovvero un kit pulizia filtri dell'aria BMC questo è un articolo veramente carino in quanto comunque sia costa soltanto 10 euro e i filtri a pannello BMC o qualsiasi altro filtro insomma dell'aria sono molto frequenti per chi ovviamente ama elaborare la macchina quindi per il poco prezzo ho deciso di portarlo questo è un articolo dedicato al motore ulteriore articolo sono delle strip led RGB con il telecomando, centralina sono quattro strisce strisce e tutti i vari collegamenti io l'ho collegata all'accendi sicari quindi questo spinotto 12 volt non ce l'ho e ovviamente non ho portato il video perché quando l'ho fatto vero 28 agosto quindi settembre non avevo ancora il canale adesso lo trovate a 21 euro e 99 però quando l'ho comprato io stavo a 17 euro infatti se andate a vedere lo storico prezzo sta a 19,99 è andata via la corrente ragazzi ovviamente a chi poteva capitare a me va bene allora abbiamo visto il strip led e se vi interessa un video al riguardo sul montaggio lo so che vi interessa ovviamente cercherò di portarvelo magari se li vado a montare su una macchina di un mio amico perché io ormai ce li ho non è che li smonto li rimonto quindi andiamo avanti vi faccio vedere l'antenna questa è un'altra antenna con una forma diversa ovvero quella a pinna di squalo tra le varie pinne di squalo questa è quella che più mi piace esteticamente per la fonda per la forma ondulata sono disponibili più colori e all'interno non è menzionato ma hanno il chip con il filo la vite eccetera quindi non dovrebbero avere perdite di segnare poi le recensioni sono tutte per la maggior parte positive quindi io direi che è un prodotto affidabile ultimo articolo dedicato alla pulizia dell'auto insomma è un set professionale formato da 6 pezzi ovvero il secchio la spugna il panno in microfibra il panno quello dove si mette la mano e si pulisce la carrozzeria e lo spazzolino non lo so come lo chiamate voi quello per i tergicristallo e per i vetri insomma ha solo 19,50 euro quindi è scontato di 5 euro circa non ha recensioni quindi insomma è dubbioso però essendo un articolo prime e glart è un venditore ho controllato un buon venditore non penso che sia una truffa quindi per chi volesse insomma lo può comprare detto ciò ragazzi metterò come ho già detto la lista in modalità pubblica e fatemi sapere se si vede perché se non si vede è un problema e niente iscrivetevi al canale se non l'avete fatto seguitemi su instagram iscrivetevi soprattutto alla pagina facebook perché lì metto notizie su vari video su cosa faccio eccetera eccetera quindi se volete restare aggiornati su il mio lavoro tra virgolette perché è una passione è più che lavoro e insomma seguite anche quella pagina i link sono tutti in descrizione quindi per questo video è tutto vi auguro buona domenica e ciao a tutti